Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema di pistacchi o nutella di pistacchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Ingredienti sono pistacchi sgusciati non salati, latte parzialmente scremato, cioccolato bianco a pezzetti, zucchero semolato, burro e vanillina. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta. Attendo all'interno del boccale i pistacchi sgusciati, non salati, lo zucchero semolato e la vanillina. E azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale. Chiudiamo di nuovo con il coperchio il misurino e azioniamo di nuovo il bimbi per 30 secondi a velocità a 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo il cioccolato bianco. e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 8. A questo punto riuniamo leggermente sul fondo. Aggiungiamo il burro. e il latte. E azioniamo il bimbi per 8 minuti, 50 gradi, velocità 4. La crema di pistacchi è pronta. Trasferiamola in dei barattoli con chiusura ermetica e lasciamola raffreddare prima di chiuderli. crema di pistacchi o nutella di pistacchi si conserva in frigo per 2 settimane. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.